Io sono io, e vivo in mezzo al mare, e cerco nuovi tempi, nuovi modi di nuotare, i piedi nel passato, il naso sul futuro, le mani sotto il cuore, a sentire quel che vivo. Io sono io, e ho un carattere normale, e sbarco il lunario, con la musica e la voce, i gesti e le parole, di chi ancora vuoi sentire, il mistero dell'andare, per fermarsi e rinvertire, piacere di vederti, il piacere è tutto mio, piacere di vederti, il piacere è tutto mio, Il grande usuritore digitale, noi facciamo questa intervista, è soltanto la nuova tecnologia, è un'intervista che andrà sul web, e che rapporto hai tu con la tecnologia, con tutto ciò che è il mondo? Favorevole? No, no, sì, mi piace più o meno conoscere, insomma, le uso, però non vorrei diventare troppo schiavo, e quindi anche le semplici, ormai il semplice uso di e-mail o di sms, per dire, quando diventa troppo abbondante, mi stressa un po', allora cerco di farne un uso corretto, senza esagerare. Il piacere di vederti, il piacere è tutto mio, il piacere è tutto mio, il piacere è tutto mio. Per il piacere è tutto mio, per il piacere è tutto mio, grazie.